prego beppe come stai? grande perpe di filo eccolo tutto bene il viaggio? tutto bene dopo due ore di macchina sarà ancora più rilassante allora da Napoli arrivi? perfetto senti allora un paio di manina al volo tu quanti anni hai per te? 22 lavoro canti questo lo so poi fai anche qualche altra cosettina di particolare? diciamo che mi reputo libero professionista ma lavori col computer parecchio? senti sport? sport sto sempre fatto palestra sono cimentato un po' nella pianistenica però solo per allenamento ok però altre volte a settimana ci fai perfetto mai avuto grossi interventi chirurgici o fratture? no ho avuto delle micro fratture ho avuto un piccolo incidente a febbraio e l2 e l3 e l4 contro un albero sulla neve ah è una cosa tranquilla va bene sì quindi ti piace? sì non mi piace più ecco ti è passato oggi senti e hai fatto quindi degli esami? sì che risultato qualche cosa? dopo un mese la frattura si era... la frattura dove è avuta? alle vertebre lombari nei processi vertebrali ok ti ricordi quale vertebre? nelle 2, le 3, le 4, le 5 ok sto prendendo un occhietino eh a rischiarlo eh? sì sì più giù frattura del bacino quindi darebbe una stipulazione del hotel più su credo che i polmoni avrebbero preparato qualsiasi cosa e le costole avrebbero aver fatto l'attività allora il motivo esatto della visita qual è? dopo questo incidente comunque ho avuto degli scompensi a livello della schiena perché comunque ho avuto una rigidità sono stato due mesi a letto sono stato lentamente due mesi e qua dove sono subentrati i dolori dove li hai sentiti? nella cervicale a sinistra a sinistra ok spalla sinistra sì va bene la parte lombare destra dove sono stato colpito quindi senti una lombare che dà più duro a destra e la cervicale invece a sinistra con la spalla che torna a sinistra va bene poi altri disturbi? io ho sempre avuto questo problema la vascella che quando l'apro si scatta e si incastra da dolore? dolore no però fastidio magari quando sempre a sinistra quindi potrebbe essere collegata con la cervicale adesso lo vediamo i denti e il giro ce li ho levati? no ce li ho tutti e quattro porti bite? no no ok plantati? no ok allora andiamo a fare un attimo un esame insieme mi puoi levare le scarpe mi devi la maglietta e potremmo dire anche quei pezzini un momento poggio tutto lì e facciamo un attimo un esame postuale qui vediamo quanto sono scorto vediamo tanto non lo sai che non esiste una persona dritta siamo tutti quanti asimmetrici con comprensivari perfetto tu guarda rilassato avanti devo vedere un attimino due dettagli chiudi gli occhi ok riaprili ok abbiamo un'impronta piuttosto strutturale e dura merica per essere non allagare piegali in avanti dalla testa come se te lo durassi in avanti gambe dritta? si si scendi giù piano piano e torna su perfetto veni su allora qua risulta un blocco a sinistra e poi sei rimasto vedi infossato praticamente come se il sacro fosse incastrato questo qui vorrebbe darti dolore poi facciamo un altro esame mettiti il seduto qui unisci esatto lo spicolo al dietro delle gambe ok vieni qui dietro un po' al bravo poi mani qua dietro chiudi i comiti piano piano scegli in avanti ok chiudi in avanti chiudi 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 perfetto puoi tornare su benissimo allora partiamo un attimino da seduti mettiti il seduto su questa sedia non fa male nulla eh sentirai qualche rumoretto ma niente di che tu rilassati ci penso io sono solo test controllo dove abbiamo il blocco articolare e la ritrazione muscolare risulta un blocco maggiore a sinistra per esempio invece il ritraggio muscolare è a destra attenzione lì si è storto tutto logicamente dopo il forte trauma rilassati bravo morbido morbido eccolo qua benvenuto nel club era questo quello che volevo è bello potente nonostante visto sia bello preciso e non fa male nulla dopo ci ritorniamo adesso rilassa bravo da fare a me morbido morbido molto bene vedi la differenza tra la sinistra e la destra eh? netta è molto più morbido esatto morbido facciamo l'ultima rilassa tutto bravo abbandona molto bene molto bene abbiamo due fulchi da questo lato e una curva intera dall'altra può andare bene fammi controllare soltanto la parte in basso e rilassa morbido morbido abbandona perfetto ci siamo basta qui la pancia in su vieni basta qui le? si si stai andando la grande rilassato come vedo controlliamo un attimo se mancasse qualcosina si tra poco ci torniamo qua ci manca ancora una abbiamo il tempo muscolo di rilassarsi tranquillo bene proseguiamo invece col bacino non mi aiutare eh? rimane sempre rilassato non mi aiutare eh? rimane sempre rilassato senti ancora una via rilassa morbido morbido abbandonato rilassa le gambe bravo ho avvisato che avrebbe sentito un pochino a te ok direi che è la botta dell'epoca no? si l'abbiamo rimesso a posto io l'ho conosciuta tramite un video su facebook si e è stata una rivelazione per me sapere che ci fossero persone in Italia che operassero così bene anche tramite social con le manipolazioni si ecco rilassa è un intervento che basta anche farlo due volte l'anno si è talmente potente quello che fai che basta e avanza poi ti lascerò qualche consiglietto pratico un po' di spiegge adesso lo vediamo insieme però una volta che sblocchiamo il punto è fatta abbandona tutto rilassa perfetto pancia in su senti sei tifoso del Napoli? si questa c'è le tensioni muscolari siamo in due adesso ero male questa quindi stessa chiesta peggio rilassa morbido morbido perfetto stiamo andando molto bene allora mi hai detto che il dolore che senti maggiormente sulla scapola è la parte sinistra si però le senti anche un dolore a destra? si non so si indicami esattamente il punto che senti dietro sulla destra lo senti a quel livello lì questa è una costa andiamo a vederla allora stendi giù le gambe rilassati resta rilassati resta rilassatissimo e questa? questa qui senti? questo punto? questa è una costola allora giù le gambe rilassati lascia fare a me morbido morbido fuori l'aria bravo finito ok abbandona il controllo l'ultimo allora rilassati basta quella è una costola era quella la costola? si vai bello pratico no? quello è e quello facciamo ok intanto che ti riprendi dallo shock era esattamente quello quant'è che lo sentivi? 3-4 mesi 3-4 mesi senti come un pugnale si eh è quella quella è una costola che spesso poi si irrati anche davanti perché c'è il nervo intercostale che te la fa arrivare anche davanti comunque stiamo andando alla grande qua è l'interno scavolare si questo lo vediamo ma qui siamo su una vertebra che è questa qua la senti? si senti la differenza tra queste due questa è più sporgente ed è bloccata andiamo a farlo allora stendi le gambe non mi aiutare si mi aiuta finito basta abbiamo finito lasciamo avvito bravo aspetta che faccio l'ultima rilassa tutto bravo ok c'hai da fare un'altra cosettina che tra poco facciamo non mi sbaglio da nulla eh è tempo non provocare che qui abbiamo altre cose da fare allora stiamo andando bene oh vedi che qua si è rilassato tutto adesso facciamo l'ultima cosettina aspetta che la facciamo subito lascia morbido non mi aiutare eh morbido morbido perfetto rilassa bravo fermo così non mi aiutare 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 può andare eh capito si si che bel disastro che c'era qui l'hai sentito la clavicola che veniva fuori? c'è stata una lustrazione della clavicola tutta una lustrazione quindi comunque limitata però sentito come è rientrata insieme questa mi dava fastidio al letto steso eh questa ti ha problemi perchè qua è quasi uscita fuori una clavicola praticamente e ora? adesso sta a posto ah ok sempre più pratico il mio donna diceva sempre a me cosa è ma che comanti se vorrei venire se li metta a posto da quanto tempo lei è appassionato di questo progetto? eh 15 anni che è lavoro ah ah studi lavoro insegnamento hai visto che insegniamo in tutto il mondo si insegniamo principalmente la parte strutturale si dice quella delle manipolazioni che è la parte un po' più complicata che richiede un po' più di manualità di studio c'è bisogno anche di conoscere molto bene se stessi nel senso dici di me stesso? in che senso? a lei cosa? non ha problemi no lei credo? beh ovviamente ho pure problemi come si ci può fidare di un altro osteopata rilassa adesso ci arriviamo morbido perfetto hai visto la differenza tra due no? si ti fidi io per esempio faccio spesso trattamenti con i miei allievi più bravi si ho un bravissimo collega che spesso mi tratta diciamo che due tre volte l'anno anche io ho la visita dall'osteopata infatti uno si sente un po' no? si sotto pressione che diciamo lo giudichi no 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 c'è confidenza molti l'ho cresciuto veramente quindi sono bravi sono bravi ok stiamo andando molto bene eh a Napoli per esempio ho tre bravissimi collaboratori che mi seguono spesso nei corsi in giro del mondo e adesso sono stati con me a Barcellona mi stanno guidando molto a gestire i pazienti per esempio della campagna quindi poi ti trovo un contatto così hai anche un aiutino vicino a casa molte persone hanno paura dell'osteopatia beh come anche del chiropratico ad esempio mia madre appena ha visto che doveva venire qui terrorizzata si poi ha visto i video ancora meglio si io non riuscivo a guardarli neanche il suono fai una bella ispirazione bravo inspira profondo profondo vai fuori vai ancora inspira 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 fuori bravissimo inspira profondo bravo perfetto molto bene rilassa andata alla grande no non siamo tantissimi che approcciamo con la manipolazione però di osservati bravi ce ne sono tanti ovviamente devi vedere una formazione medica regressa però ci sono molti bravi poi a volte cambiano un po' gli approcci c'è chi approccia un po' più la parte viscerale quindi magari più la sfera di stomaco e coloni e così via che è importante diaframma che è quello che sto facendo adesso con te e poi per esempio c'è una sfera dura merica che ha a che fare con la dura madre che è quella che contiene il midollo per capirci che spesso da una tensione dal cranio fino al sacro ecco perché si dice craniosacrale con cui si possono trattare perfino le ernie pensa e poi c'è l'aspetto un po' più strutturale che è quello che io prediligo che è quello appunto delle manipolazioni vere e proprie che è quello che negli anni insomma mi ha dato un po' più di risultati concreti però per fare l'osteopata come lo fa lei bisogna fare per forza palestra ma io ci casco sopra ti butto 90 agli diretti e il problema non si pone dopo vedrai che c'è uno sgarbellino strategico io non tolì fa il tuffo te lo ricordi? era il misterio? sì 619 regola le corde che ho sistemato allora morbido morbido che andiamo bene perfetto e ci siamo tra poco facciamo questa parte qua volevo controllare soltanto un'altra cosina qui che tra poco invertiamo qua rilassa tutto eh morbido morbido bravo abbandona tutto rilassa eccola questa richiedeva un pochino più di di escursione allora pancia in giù che andiamo a seguire un attimo una vertebra che mi puliosisce così si si giù la testa non ho proprio rilassato bravo come preferisci lascia morbido rilassa tutto bravo testa di qua morbido morbido può andare controlliamo un altro paio di cose rilassa no no ma grande allora qui si è liberato tutto eh? sì sì lo senti che si alleggerisce? sì adesso arrivo alla parte più importante dobbiamo fare lo sblocco del sacro per far perdere più quell'infossamento di curvo che è qua allora lo sgabellino? sì è arrivato l'hai chiamato senti questo è lo sgabellino del terrore hai più dolore a destra o a sinistra? a destra ok quindi lo percepisci bene spesso si arriate anche sul gluteo? sì come se ci fosse una strada gira non c'è un problema alle terminazioni urburi ecco giro la testa di qua sì più rilassato che puoi perché sai che spesso dopo le fratture vertebrali come vedete si possono manipolare senza problemi ci sono però delle situazioni sia ad artrosiche ovvero proprio perché lì c'è stata una frattura diventa molto meno mobile la parte che si chiama artrosi poi è futura quindi poter sbloccare quelle due volte l'anno ti permette di annullare il processo di gestione artrosi bravissimo eh sì perché diventa meno ristagnante diciamo il punto e quindi essendoci che non ristagna il punto lì riesce a far arrivare più sangue che è buono perché porta via sia l'infiammazione sia invece che porta il nutrimento dei tessuti tu rilassati eh bravo morbido morbido si è fatta se siete fastidio me lo dici partibile? eh dai una sistemata diamo una sistemata davanti e proseguiamo vado? vai morbido morbido ok questo immagina che lo sblocco più importante di tutti perché permette tramite i legamenti sacraliaci di sbloccare il bacino, che non è come la vertebra che prendo e la manipolo. Ma c'è bisogno di fare una sorta di lotta greco-romana con i legamenti. Tipo dei legamenti. Sì, vedi che sto denordosizzando, ma più che altro sto andando a portare il sacro in una specifica posizione. E questo quando ti metti in piedi ti sembra anche puli. Rilassati, che manca poco. Ci siamo quasi, che si è già sbloccato. Morbido, morbido. Fatta. Pancia in su e ci riposiamo. Suotiamo la testa. Vedrà che serve lo sgabellino? Sì. Che poi è fantastico, perché uno si compra il lettino elettrico, no? Che metti giù su e poi alla fine invece sgabellino in vecchia maniera. E se lo prima. Ok. Ci siamo. Voglio controllare un'ultima cosa qui. Sì. Come vedete esistono tantissime tecniche diverse per fare lo stesso punto. Questo perché cambiando le posizioni del paziente, spesso da seduto pancia sopra. Pancia sotto tu cambi poi la curva. Sì. E quindi riesci magari a prendere meglio una vertela che era più incastrata o apri, si dice, i piani di scorrimento e quindi grazie alla biomeccanica riesci a far scattare quella vertela che invece magari da seduto per esempio serve impossibile. Qui voglio solo controllarti questa qui. Bravo. Giù le gambe. Ti rilassi completamente. Morbido, morbido. Bravo. Siamo a posto. Allora, ultima parte. Te lo cuore, eh? Eh, questa è... questo fa poco. Allora, ci siamo. Manca l'ultima e poi è fatta. Allora, rilassatissimo. Bravo. Questo è il muscolo masseteriche, quello della masticazione, che è fondamentale, sai, per chi si rende i denti una notte. Bravo. Uno è andato. Ci sei? Sì. Pronti con la seconda parte. È molto... lo senti che è ipertrofico questo? È molto più teso questo qui. Bravo. Abbiamo finito. Bravo. Eh, c'è una bella differenza, eh? Tra i due lati. Piccola pausetta? Sì. Sto andando bene. Sì, è tanto più sciolto. Sì, sì. Rilassa, che facciamo l'ultimo. Morbido. Ah, è finita, è finita. Non lo prendo più adesso, vedi che cede. Rilassa. Eh no, ormai è andata. Ok, basta. Allora, apri poco poco la bocca. Rilassa. Lascia la mandibola rilassata, bravo. Ne manca una, rilassa. Eh, acceduto. Ci sei? Quello è il muscolo pericolo interno. Andiamo avanti. Apri piano piano. Questa è l'ultima. Rilassa. Ci sei? Sì. È scattato bene, eh? Manca l'ultima. Aspettiamo un secondo. Rilassa. Morbido, morbido, morbido. Apri piano di mano. Lascia il morbido, rilassa. Bravo, abbandona, abbandona, senza porra, rilassa. Bravo. Ok. Ce l'avevo un'ultima? Sì. Dai che è fatta. Piano piano, rilassa. Eh beh, sì, è andata. Senti come c'è, diventa morbido, morbido. Allora, testiamo un attimo la mandibola. Sì, il blocco è qua. E adesso riduciamo la rilassata. Praticamente l'unica parte un po' più fastidiosa c'è la tua mandibola. Se ho rotto il resto hai visto che si fa abbastanza bene. Allora, più rilassato che puoi, adesso devi lasciare completamente abbandonata la mandibola. Come se fosse, vedi, proprio abbandonata. Esatto, falla muovere così tranquilla, lasciala abbandonata. Bravo. Non si sente niente, eh? Lascia morbido muovere. Rilassa. È come se fosse un massaggio perché la puoi ammorbidire. Rilassa. Bravo. Morbido, tranquillo. Bravissimo. Rilassa. Bravo. Ci sei? Sì. Questa faccia paura, eh? Ok. Mi vorrei che possa andare. Sì, sì, sì. Ci siamo. Morbido, morbido. Rilassa completamente. Bravo. Morbido. Ok. Ecco. Tu rilassa, rilassa. Allora, come se vedessi, come se io ti facessi inclinare piano piano e tu ti lasci cadere. Bravo. Morbido, morbido. Morbido. Abbandona. Bravissimo. Lascia morbido. Eccola. 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 Bravo. Bravo. Fermo. Rilassa. Ci siamo. Basta. Riprendi un secondino. Datti una bella sgranchitina. E adesso vediamo un paioiminato. Sensazione dietro della schiena bassa. Come la senti? È molto più libero. Ti sembra che volli? Eh? Sembrava come se c'e fosse una compression, no? Molto... sì, sì, c'era... si, non riesco a parlare eh, ma adesso è leggera leggera quello è lo sblocco che si fa attraverso il sacro ci reticare i ruoti bene? noto un po' di sempre fatica sulla parte alta quello è il muscolo trapezio che tra poco andrà acceso da solo due giorni da solo si va a sciogliere stretching consigliato dopo vi spiego tutto e basta, è andata vai, accomodati che vediamo tutto insieme allora Peppe vediamo insieme invece un paio di consiglietti adesso che tutto è andato bene fondamentale mi raccomando mantenere i 90 gradi da seduto quindi usa questo escamotaggio del puff per non sciolare sul divano mi raccomando l'inforzamento quello sul divano che viene naturale a tutti lo facciamo tutti ma questo è devastante perché immagina che la maggior parte degli erni sono posizionali, quindi derivano apposta da problematiche di postura mi raccomando i 90 gradi più il puff poi materasso rigido per evitare quindi l'iperfessione quindi la cucina è basso poi ti do il contatto su Napoli così almeno ogni tanto magari ti fai quella seduta di mantenimento durante l'anno che può aiutare poi noi con calma ci rivedremo circa dopo sei mesi e lo sport che puoi fare tutto quanto va benissimo la palestra attenzione a non coinvolgere il trapezio quindi tutti quei movimenti che riguardano sai ritirata al mento le alzate laterali vanno bene ma non deve esserci lo sforzo dove coinvolge il traverso ogni volta che tu coinvolge il traverso ogni volta che tu coinvolge il traverso ogni volta che fai lo sforzo purtroppo con il trapezzo va a bloccare la certificazione perché non è un movimento seguimi semplicemente questi quattro consiglietti che sembrano i consigli da nonna e se non posso facile facile va bene? mi raccomando qualunque è stato un piacere mandaci notizie perché aspettiamo una nuova canzone arriva io dopo un incidente comunque è stato un periodo di costante ripresa mi ha dato un attimo in freno nella vita è stata come una metafora andare a 100 ore per poi andare a sbattere mi è successo e ho capito tante cose ho capito che bisogna stare un attimo più calmi fare le cose un po' più con la testa e questo diciamo è un mio piccolo ritorno sui social esatto sulla scena quindi speriamo insomma e anche fisicamente perché poi da una persona molto atletica ritrovarsi a letto per due mesi è stato traumatico però ci siamo allora sono contento di essere aiutato in bocca al lupo mandaci notizie tanto ci sentiamo insomma a presto a presto festeggiamo oggi i 100.000 iscritti al canale vi ringraziamo grazie grazie a tutti iscrivetevi al canale del dottore che è molto bravo professionale vi può aiutare anche nella vita di tutti i giorni dandovi semplici consigli come l'ha fatto con me quindi qui sotto iscrivetevi seguitelo commentate lasciate un like grazie peppe dopo i soldi della segretaria siamo a posto e quindi ragazzi grazie mille per averci seguito e un abbraccio grande a spalla benissimo ci siamo scordati a presto a presto a presto a presto a presto a presto a presto